Perchè avete deciso di partecipare a questo evento? Milestone è uno dei migliori partner al mondo di Arecon. Milestone e Arecon collaborano strettamente nel mercato USA ed Europa e per noi è molto importante stare a fianco del miglior produttore sul mercato. Qual è il valore aggiunto della partnership con Milestone? Milestone ha iniziato a lavorare in questo segmento quando è nato l'IP. Per noi è importante stare con un leader e avere un buon rapporto con questa azienda perché siamo sicuri che la nostra partnership e le nostre installazioni avranno successo se collaboriamo con loro. Quali sono le differenze tra i vostri prodotti e quelli degli altri? A me la domanda è spinosa. Una delle nostre caratteristiche è quella di dare una parte di noi stessi agli utenti finali, agli installatori e a tutta la rete di questo settore. Non abbiamo bisogno che nessuno gestisca il nostro prodotto perché tutta la gamma funziona automaticamente, registra tutte le immagini, non c'è bisogno di fare nulla. Potete fare studi specifici sulle immagini a seguito della registrazione e non perdete nulla in termini di qualità. Questa è la nostra capacità più grande. Cosa ne pensa dell'analisi del trend futuro in questo mercato? Il mercato è davvero complicato. Al momento ci troviamo in bilico fra analogico e digitale. Abbiamo un mercato delle videocamere con una cultura vecchia e che ha avuto una reazione forte al cambiamento e contemporaneamente abbiamo l'industria dell'IT, i protagonisti dell'IT e quando questi usano la comunicazione, l'installazione IP nelle network vedono che installare una videocamera IP è una nuova possibilità di guadagnare di più e completare il ciclo aziendale. Lei pensa che l'iniziativa CCTV Companies in Connection possa aiutare le varie ditte? Non so, non ne sono sicuro, ma penso che poche aziende saranno vincenti in questo mercato e queste nuove aziende saranno quelle che riusciranno a toccare entrambi i versanti analogico e digitale e che riusciranno a dare soluzioni all'utente finale.